Ciao, allora per la rubrica quanti regali posso fare a meno di 10 euro vi farò vedere qualcosina. Allora, innanzitutto partiamo da un regalo utile. Il regalo utile è quello che fa bene alla persona e che soprattutto verrà usato dalla persona che lo riceve. Ecco abbiamo una spugna con sapone vegano incluso. Vi ricordo che per avere delle mani e una pelle altamente idratata bisogna usare un sapone che non sia aggressivo. Ecco qui i nostri prodotti, sia per la vasca che per la doccia, che per la detersione delle mani giorno per giorno. Vi faccio vedere poi, sempre per la cura delle mani, questi meravigliosi smalti rossi. Questi sono i miei due preferiti, il numero 24 e il numero 8 e questi altri qui glitterati che potete anche usare alternati sulle mani. Ciao!